Fede è un eterno bambino, è un ragazzo dal cuore d'oro. Lei per me rappresenta il futuro. Mi ha reso davvero felice e fiero di lei, vederla sorridente è la cosa più bella. Si può scherzare di tutto con lui, quindi questa è la sua qualità secondo me. La capacità di riuscire a strappare un sorriso sempre in qualsiasi situazione. Per me Fede è questo, è la felicità. Il momento più magico è sicuramente quando si è aperta la porta di Carola e l'ho vista vestita. Noi eravamo lì presenti ed eravamo vicino a lui, quindi saremo sempre con lui. Alla fine tu ottieni indietro quello che dai e quindi loro hanno ottenuto indietro da tutti i loro amici e parenti quello che loro danno nel quotidiano. Grazie per la visione!